malina su tutte le notifiche mentre tempo l'incione in su oggi siamo i compagni di dread e faremo delle partite in coppia saluta ciao allora ok si vada e il party ma te allora primo like della partita messo e il secondo di il primo dislike anche la nata dislike dai perché messo dislike dai match toglielo su dislike non ce l'ho più di fatti ma c'è qualcuno che ha già iniziato a vedere due spettatori io e te siamo e perché ci sono tre like però togliere l'audio si ora tolgo tolto vediamo chi c'è sono in due siamo in un minuto fori attuali io e te io sto morendo di fame io più o meno io più o meno andiamo nooo parco parco no perchè ci ha tolto la live da te vabbè fa niente un altro video perchè sto guardando acqua del bambino nasce allora vediamo se c'è un lago via via immagini che hai perso su me ha smesso di giocare a fornit immagini di trovare un lago del pranzo di giocare a fornit kagotze che palle c'è gente da te no ma c'è un tipo da te ho visto un tizio a terra una io sto ancora lutando no e non sto trovando solo qua io ero ancora lutare ho preso solo accessi sopra io sto trovando solo qua ma ho preso da una caduta persino io ho medici che tu vuoi no no anche io ce l'ho no no anche io ce l'ho no no anche io ce l'ho arrivo con la mini la chila che però era senza anima mi era easy mi era easy mi era easy mi era pronto eh ora mi stai guardando c'è gente che sta tirando gli spettatori mi stai guardando te mi stai guardando te si si ok c'è gente che ha tirato gli scagnozzi gli scagnozzi io ci sto andando cattivo quella mini forse lo scagnozzi ho killato io solo assalto io ho un assalto e una mini io ho famas e assalto io ho famas e assalto allora quello non è quello che ha non ha la mia non ha il cerco quindi il cerco come mi servirebbe una microietta e anche a me come mi servono una pistolina in teoria no non vedo più l'effetto no dove vai l'altro mi spara qualcuno ma non so chi è ma te lo vuoi? ma quello vuoi? ce l'ho giò ce l'ho giò ce l'ho giò ci c'è né da te dai guarda sono i bot io mi travesto tra un po' guarda co.. cosa? sono troppo forti aspetta va mi travesto io non ci posso credere Ma c'era gente No non c'era nessuno Mi ha killato quello scagnozzo Solo che mi ha preso tutti Aspetta che lo kill Fermo Voglio vedere come si deve All'ultimo secondo Veramente Sì Lo sto vedendo qua Ma forza Ma l'ho visto una Craccato mi ha scioggio Oh wow Io ora ci provo Togli il volume Uh non ci credo Mi voglio far cadere Ma cosa Mamma mia Ma cosa Ma che pronto Se non morivi dagli scagnozzi Alla falce Vai Sto qua Togges Bebe 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 Anche un Bebe Bebe Ah Anche un Bebe Amel No Un looking skin Dammelo Do 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 Du la 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 su 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 fa 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 fafà fa 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 do re do re do re do do re mee re do la su Oh qualcuno ha scritto in chat bella morte l'hai visto a settemate ho visto l'ago va andiamo lago lago la moglie della ferrara il marito scusa era il mio ex allenatore di partito di ping pong era mio ex allenatore ma che siano allora io a terra qua c'è sto speciale me l'hanno rubata dai vieni 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 che ti chillo ah oh ma mi stanno bullizzando a terra una ranta di vita io uno gli ho lasciato a terra un altro uno è là dentro e uno dentro la casa io però si tizzi qua me li finisco scusa devo lasciare tutto c'è una a meno che non ha trovato un medici avrò due di vita capri 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 e gabi gabi cosa non ha un assalto e vieni dai capri 10 8 stai fermo però non ti fai sentire sentire non ho armi e non ci posso da niente o 4 di vita gente lei proteggermi perché io sono fermo sei fermo ti cura col bazooka benze ma tanto se non hanno armi e inutile gabi eccolo naturalmente dove è sopra da me chi lato posso solo dai l'assalto ti do la mitraglietta dai matte mi serve un casino l'assalto e perché a me no ma l'ho chillato io non ho colpi dal per sparare da lontano a terra uno io ho finito matto ma cosa chi è che ha fatto esplodere le mine era dentro non ho colpi per questo mi serviva l'assalto vedi 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 in one shot ma me l'hai presa la scheda la Sopra si sta facendo medikit 6 kill Laschidina, laschidina, 36 Sei tranqui Eh, se l'ultitanto... Ma ci arrivo Ma ci arrivo 10 9 Aspetta che mi bevo... Sì, invece... Ci credo Te l'avevo detto di non evitare Ma scemo, vai Te l'ho preso 6 kill Ehi, l'ho fatto 3 team 3 team What? What? Non ci sto manco credendo io Per una volta mi sto impegnando Lo faccio sempre così Lo faccio sempre così Sempre così Anzi, avevo l'assalto verde Sì, avevo l'assalto verde Poi vieni qua che ti do i colpi Ce l'hai le armi? Sì Quali hai? Quali hai? Rassalto in mitraghetta Vieni qua che ti do i colpi Rassalto questi 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 In mitraghetta Questi 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 Non ci sto credendo Mamma mia Non ci sto credendo mamma mia L'ho Una jump Una jump Una jump vicina ma sono pochi cesto 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 non c'era niente ti lascio quella sopra ma se te li ho dati uno di più è anche meglio io se trovo una casa delle munizioni ha fatto una missione così senza alla cavolo mai l'ho fatta alla cavola ma te tieni me l'ho dimenticato dimenticato in tessio caccia oggi potrebbe essere 4.8 post 4 cdc non aiutiamo i cittadini si non posso ora quando finisco arriva devo farmi vedere una cosa la pistolina mi ha tirato l'assolto blu scildone ma te lo devi tirare lo scildone hai detto che lo devo tirare tu hai detto che è 4 flopper tu hai preso l'assolto blu si è preso l'assolto blu sei preso l'assolto blu si è preso il viraggio gli dammeli hai fatto l'esercizio sulla scaletta se la sarete anch'io oggi anch'io un po' non hanno buttato buona gente dove dove la la del spagnolo la 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 gli ho proprio visti che camminavano e adesso non so dove sono però gli ho proprio visti che camminavano aspetta eh ma ne siamo in pochi eh ma ne siamo in pochi e ho 6 uccisioni uno ha killato un tizio con la menina di brutus ce l'ha scritto bella tattico verde tattico verde vuoi tattico bianco eh io non ho un po' e prenditelo io ho killato praticamente tutti col tattico bianco tattico bianco ho 10 razzi buono bianco si tanto solo tre me ne servono poi 500 legno 500 legno io ho 800 di legno aspetta a me non piace formare lo faccio solo per i maz solo per i maz ma senza maz sei fottuto vero vero eccoli 3 spett 3 spett capri 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 con l'elicottero con l'elicottero ah eccoli e ma eccoli vittato uno vittato uno vittato uno e lì c'è gente e lì c'è gente vanti due blu vittato una volta vanti due bianco Oh, sono morti 22 blu Attendo dall'altra parte 23 23 quello 27 bianco, 30 bianco No Non l'hai skillato Eh, scusa Eh, se mi killava poi Ma che ticchillava, va Eh, cosa ne sai te? Lì sotto la jump Vai, pushiamo Vai, pushiamo I jump Sono in due Hittato una volta Io lo pusho, vale Però mi servono un po' di materiale Mi muovono qua Solo il mazzo di questo Ok No, da dietro Da dietro Da dove? Ma te Vieni qua Vieni qua Ah, ho capito qua Hai il bar, è tu te Eh, l'ho trovato Don ti Matti, vieni qua Io ti ho la scala Vai No, perché non ti resta Non fermarti Non fermarti Non fermarti Io ho quattro flop C'è tre flopper Ok Sì Mi tiro gli scidini Vai, vai, vai Aspetta Dami gli scidini dei flopper Sì, sì, sì Mamma mia Ma cosa Mi serve lo scildino Mamma mia Mattei jump Eh, non lo vedo Mattei jump No Sì Sì Mi sono per rompere la jump Non ti spammone sto qua Aiuto, aiuto, aiuto Aiuto, aiuto È il minigone È lui allora che va la minigone È lui che va la minigone Hai altri flopper? Sì, altri flopper Ne ho solo uno Oh, ma sto qua Apri Grazie No, non mi fai irritare Compariamolo qua dentro Non ho cure No, pure Hai razzi Hai razzi Eh, no Là c'è gente con l'elicottero No, c'è gente con l'elicottero Io ho pochissimi in marzo Anch'io avrò 700 in totale Io ho 700 in totale Io no 200 300 Eh, qua c'è un hydro però Eh, lo prendiamo No, no, no Usiamolo come esca No, usiamolo come esca Aspetta Attento Quanto con l'accia razzi in mano Ma cosa spari? Ah, qua c'è Barrett Eccolo Eccolo Dov'è? Uh So per fare trick shot Della vita C'è il bar Non capisco se è uno o due Oh, ne sto per ca' uno Hai raggi Hai raggi Hai raggi Ma solo più due Eh, non gli sprepari Uno si è giampato Mi sono giampato Ma davanti mi dai un attimo Il cerco su un attimino Un attimo Un attimo Io ne ho visto uno Penso Vieni qua Stai fermo Stai fermo Ho solo più la legna Ehmat Io ho praticamente nulla Mi serve strema Mi ridai il barretto Mi ridai il barretto Mattela Penso Se c'è qualcuno Non c'è qualcuno Infatti No, è arrivato davanti Ha visto? Io no Ha vittato Uno una volta Una volta No, perché ho sparato Merdo Nemi in safe Nemi in safe Io ho solo più 150 di Di mattone Io ho solo 500 di legna Solo Eh, solo Eh, solo Ho solo più un razzo Lo so Lo so Oh, c'era uno Chi lato Vai vai Dove dobbiamo andare Non ho più ragi Mattè Eh, qua ci sono Se vieni Uh, lo spasso Tieni Tiro i razzi No, 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 no Ho il barretto Eh, allora lo prendo io Non c'è razzi Scusa, scusa eh Aspetta Papi, stiamo finendo Stiamo finendo Qualcice da solo Contro Contro No Three No it's That's No, come Appartano Giglio Dove No, come No, 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 no No È 和 quando sparo provo a cichinarlo dai matte no qua no guarda è sceso mi ha laserato hai cure come no oh my god hanno chiudato il tizio dai matte prova ah cosa fare a morire ma quella le hack secondo me ha fatto tutti i handshakes secondo me vero dai raga che stiga io vado a mangiare ok ciao dopo torni ah devo guardare il telegiornale no no non credo ok ho finito ho finito ora metto salta ora metto salta mi raccontavo che chiesse la tua mascherina per andare oggi a comprare una cosa in cattoliteria era contentissima poi gli dì i vantanoncini vieni capri non è scopato non è scopato nessuna skin però ora è ricaricato il nato è ricaricato